Dal rigore vittorioso di sette giorni fa a Casarano a quello decisivo ma al contrario contro il Gravina. La seconda trasferta consecutiva del Biceglie non produce gli stessi esiti ed invece premia la formazione murgiana al bis di Vittorie dopo quella nel derby di Altamura. La prima occasione della gara la costruisce il Biceglie con la conclusione al volo di Lapiana su cross di Rubino e palla che non inquadra lo specchio della porta. Il primo a fondo dei padroni di casa invece lo produce Notari Stefano il cui contatto in aria con Rubino vale il calcio di rigore con Diop che dal dischetto non sbaglia. La reazione dei nerazzurro stellati non è immediata anzi bisogna aspettare il trentacinquesimo per registrare la conclusione di Leonetti fuori misura prima di un finale di tempo con il tentativo di D'Angelo per parte murgiana ed il diagonale di La Salandra che non inquadra lo specchio della porta. La prima vera parata di Martorell deve compierla il dodicesimo della ripresa sulla conclusione di Chiara Dia mentre Leonetti al diciassettesimo sbaglia ancora la misura della girata. Il tentativo in corsa di Diop palla alta al ventiquattresimo chiude le occasioni per il Gravina che però ha il merito di saper controllare la spinta di un Biceglie pericoloso solo al quarantacinquesimo con il colpo di testa poco incisivo di Priola. Prima del triplice fischio il match winner Diop trova il tempo per rimediare il secondo giallo e sporcare in minima parte la sua gara. Gravina in fiducia e Biceglie che non solo incassa il primo gol ma anche la prima sconfitta in campionato.